Siamo con Rosanna, la vincitrice della giornata insieme ad Alessia Filippi dell'anno scorso. Come ti sei trovata a partecipare e a vedere Alessia Filippi? Bene, una bella esperienza. Raccontaci un po' quali sono state le tue sensazioni, quello che hai provato, come ti è sembrato? È stato molto bello anche perché abbiamo capito molte cose e da questa esperienza sono maturata. Ho capito le sensazioni che Alessia ha provato quando è andata ai mondiali, quando ha stabilito il suo primo record. Abbiamo avuto un dialogo molto ravvicinato e sono molto contenta di averlo. Quindi ti ha incoraggiato. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi anche in relazione a questo fatto che vi siete incontrate? Qualificarmi per i campionati italiani di Roma. Bene, noi te le auguriamo. Qui invece ci sono le tue compagne, che siete della squadra? Balnea. Voi vi chiamate? Io Cristina Siani. Giorgia. Yolanda. Quest'anno come si sono aperte le gare? Non so se ancora avete gareggiato. Sì, io ho gareggiato già. In che cosa? Ai 50 stile e poi abbiamo fatto la staffetta, la 4x200. Voi? 4x200. Quali sono le aspettative che avete in questo 2011? Eh, non saprei. Qualificarsi per i campionati italiani a Roma. Dai, noi ve lo auguriamo. Ci fate un saluto per Dolce e Farnuoto. Tutte insieme. Ciao. Ciao. Grazie.